Potrebbe trattarsi di una grosso colpa ad un centro commerciale e a retino fallito. Nella notte infatti sono stati piazzati dei grossi tronchi nella sottopasso alle mie spalle per ostruire così il passaggio d'ingresso al centro commerciale. Posizionata invece sul lato opposto dell'uscita del piazzale una vela pubblicitaria, potrebbero essere stati dunque i preparativi per un maxicolpo, un vero e proprio assalto ben organizzato. L'obiettivo dei ladri potrebbero essere stati i negozi che si trovano all'interno del centro commerciale Sette Ponti. A lanciare l'allarme questa notte alle 3.45 un vigilante. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno rimosso i grossi tronchi che bloccavano il passaggio. L'accesso poco dopo è infatti tornato percorribile. Sul posto sono stati trovati anche alcuni attrezzi da lavoro utilizzati per segare gli alberi che sarebbero stati rubati da alcuni capagni agricoli a poca distanza dal centro commerciale. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo. Due l'ipotesi al baglio degli investigatori preparativi per un maxifurto o un gesto goliardico. Sono state infine acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona attualmente al baglio degli inquirenti. Resta da capire adesso nel caso di un tentativo di furto cosa possa aver fatto sfumare il colpo.